Come abbiamo detto in apertura il maltempo si è abbattuto sulla Sardegna, nel Nuorese è esondato il Cedrino, paura anche in bassa baronia, pioggia incessante, cresce l'allarme, a Dorgali e Galtellì alcune strade di campagna sono state chiuse, vediamo il servizio di Bebo Madetto. Questo è il film che ha in mente il rio Osala, riesce dalla grotta di San Giovanni, il 2004 l'ho visto così e il 2008, adesso non riesce più a… no no sta alzando, almeno di sette non moriamo quest'estate. Nel Nuorese piove in interrotta da ieri mattina e cresce l'allerta per le esondazioni, la diga di Preda e Ottoni in baronia ha trascimato scaricando nel fiume Cedrino che ha allagato alcune zone di campagna a Galtellì. La situazione è sotto controllo ma il sindaco Giovanni Santo Porcu ha riunito il COC con gli uomini della protezione civile, i baraccelli e le forze dell'ordine. Con ordinanza del sindaco 19 del 21 maggio, il comune di Oliena ha disposto in via precauzionale la chiusura temporanea al traffico perdonale e veicolare della strada provinciale 46 nel tratto all'altezza del ponte di Oloè in entrambe le direzioni di marcia, direzione Dorgali e direzione Oliena.